L'autismo è una malattia ancora in gran parte misteriosa che si manifesta prima dei tre anni di vita con menomazione dell'agire sociale, della comunicazione e del comportamento. I minori autistici in Italia sono 400.000, mentre in Valle Seriana la proporzione è di 1 ogni 150 bambini che nascono. C'è una variabilità di sintomi che fa sì che difficilmente due soggetti autistici sono uno uguale all'altro. Come vede questa realizzazione che oggi viene inaugurata qui? Questa la vedo come l'inizio di un sogno, cioè la realizzazione è l'inizio di un sogno, nel senso che è ormai da anni che si spinge o si cerca di fare in modo che le realtà locali, i genitori, possano creare dei luoghi dove possono essere accolti anche durante la notte dei soggetti autistici, ma senza essere connotati come istituti riabilitativi, ma come strutture inserite in un contesto di vita. Per non lasciare le famiglie sole ad affrontare il dramma dell'autismo e soprattutto per tentare di migliorare le capacità di autonomia dei bambini e dei ragazzi autistici, è nato a Clusone il progetto Durante Noi. È un progetto molto ampio, è partito tempo fa con la costituzione di questa associazione, oggi abbiamo a disposizione, grazie a chi ce l'ha reso disponibile, questo appartamento, che vuole essere un punto di incontro dove i nostri ragazzi svilupperanno delle attività, quindi attività ludiche, quindi di gioco, ma attività anche di studio, attività che porteranno, speriamo presto, anche a una consapevolezza, a un progetto di autonomia e a un progetto di integrazione nel mondo esterno. Un appartamento a misura d'autismo, concesso in uso gratuito dalla Fondazione Istituto Giovanni XXIII, è completamente ristrutturato ad opera di volontari e familiari dei ragazzi. Assieme al Comune di Clusone e all'Istituzione Sant'Andrea abbiamo fatto questo progetto, che si chiama Durante Noi, per cercare di trovare nuovi spazi, nuove prospettive ai nostri ragazzi.